Giorno amici di Nova News 24 putiferio a Mediaset litigio dietro le quinte tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti mai visti così vediamo cosa è successo nelle ultime ore un gran caos dietro le quinte di Mediaset a causarlo sono stati gli stessi vertici alti dell'azienda di Cologno Monzese a pagarne le conseguenze sono stati due titani della televisione ovvero ragazzi udite udite Paolo Bonolis e Gerry Scotti il quale inevitabilmente si sono scontrati vivendo dei momenti di alta tensione nonostante siano grandi amici ed ottimi colleghi ma vediamo nel dettaglio pochi giorni fa è stato comunicato il nuovo palinzesto dei programmi Mediaset sarà inaugurato già a fine agosto proprio con due game show per eccellenza caduta libera condotto da Gerry Scotti avanti un altro di Bonolis ebbene i vertici hanno deciso di dare la precedenza Gerry Scotti nonostante le registrazioni del suo programma siano nettamente inferiori rispetto a quelle del collega e ciò avrebbe fatto infuriare molto Paolo Bonolis ci sarebbe stata molta tensione nei corridoi di Mediaset queste le voci che si leggono su internet un ulteriore motivo di discordia tra i due colleghi è stato il fatto che il conduttore di avanti un altro già per tutta l'estate si è dovuto accontentare di continue repliche mentre le nuove puntate erano già pronte perciò avrebbe potuto iniziare senza dubbio per primo intanto stando alle indiscrezioni i vertici Mediaset avrebbero preferito far cominciare Gerry per primo siccome quest'anno Bonolis avrà più spazio nel palinzesto dopo vari anni precisamente dal 2019 ritornerà ciao Darwin probabilmente a marzo il famoso programma dovette subire una battuta d'arresta a causa di un grave incidente verificatosi durante una prova ai danni di un giocatore Gabriele Marchetti l'uomo è rimasto vittima di un serio infortunio nel gioco di Genodrome la prova dei rubi procurandosi lo schiacciamento di alcune vertebre e rimanendo gravemente paralizzato Gerry Scott invece sarà solo al timone della conduzione di avanti un altro poiché il Guinness World Record non avrà una successione non verrà più riproposto probabilmente potrà solo condurre alcune puntate di strisce alla notizia come accade di solito inoltre un altro motivo per cui i vertici Mediaset hanno preferito far partire prima Gerry risiede nel fatto che col gioco delle botole si stacca la monotonia del telespettatore che già per un'interestate ha assistito alle repliche di avanti un altro e intanto amici di Nova News 24 diteci la vostra diteci cosa preferite tra Bonolis e Gerry Scotti e fateci sapere come la pensate nei commenti se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24